A Castelvecchio Calvisio in provincia dell'Aquila si è tenuta la prima edizione del Festival delle Professioni Tecniche, organizzata dagli ordini e collegi delle professioni tecniche della provincia dell'Aquila. Eventi come questo che cosa promuovono? Promuovono e sensibilizzano un'attenzione ai nostri, quelli che vengono definiti, diciamo genericamente borghi, ma che noi vorremmo che venissero poi definiti paesi in quanto luoghi abitati. Quindi il fatto che ci possa essere un ragionamento sul valore architettonico monumentale di questi luoghi, ma anche su come questi luoghi auspicabilmente possano rimanere vivi. L'idea è quella di creare un festival che valorizzi le prospettive future per la ricostruzione dei luoghi colpiti da eventi naturali. Che si mantenga il valore storico di questi monumenti veri e propri, siamo a Castelvecchio Calvisio che è un unicum a livello mondiale. In questo contesto gli ordini tecnici svolgono un ruolo fondamentale, offrendo competenze e professionalità al servizio del territorio. Dal punto di vista professionale, il sisma e il dopo sisma, che cosa vi ha portato come arricchimento personale? Ecco, ci ha portato un grande know-how e questa qui è l'altra sfida che secondo noi dovremmo rilanciare. È quello appunto di fare in modo che questo know-how possa essere una risorsa economica per tutto quanto l'Aquilano, che possa essere esportata. Il festival si propone così come apripista per la rifunzionalizzazione dei borghi colpiti dal sisma, attraverso idee e proposte concrete da mettere in atto. Cioè fare in modo che si faccia prevenzione e quindi da qui restituire al paese, che insomma ha portato anche risorse per ricostruirci, restituire questo know-how e fare in modo che il resto del paese possa avere l'attenzione e la sensibilità a prevenire. Il Festival delle Professioni Tecniche rappresenta un'importante occasione per riflettere sul futuro dei territori colpiti dal sisma e per valorizzare il ruolo strategico degli ordini tecnici nella ricostruzione e nello sviluppo sostenibile.